Sono venuto a prendere i soldi anche quest'anno. L'anno scorso io, simbolicamente, insieme all'Unicef, ho portato i vostri soldi, quelli che sono stati raccolti con la vendita del calendario, in Guinea-Bissau e lì li abbiamo consegliati alla polizia del posto per farli organizzare meglio, per aiutarli a combattere questo traffico dei bambini talibè, così che si chiamano quei bambini con la scusa di farli studiare in scuole coraniche, vengono portati in Senegal e poi vengono usati per mendicare nelle strade di Dakar e per lavorare nei campi senza nessuna retribuzione. La polizia della Guinea-Bissau ha bisogno di un aiuto per poter combattere questo traffico che mi sembra la peggiore delle idee che un essere umano possa avere, ma dove c'è una condizione di indigenza si trova facilmente da pagare qualcuno per lo fare. E quindi anche quest'anno la vostra sensibilità ha dedicato la cifra che raccoglierete con la vendita di questo calendario a questo progetto. Io vi dico solamente grazie a nome della Guinea-Bissau e di tutti i suoi bambini che sono uguali, identici ai vostri. Ciao!